Disponibile sul sito del Movimento 5 Stelle la lista di 17 candidati con la quali i pentastellati si presenteranno nelle elezioni amministrative di Feenza. Dopo il voto quindi sulla piattaforma Russo che ha concesso la possibilità di formare alleanze, il Movimento 5 Stelle di Feenza è tornato in corso e sarà con tutta probabilità all'interno della coalizione di centrosinistra a sostegno di Massimo Isola. L'ufficializzazione della presenza della lista nella coalizione avverrà domani quando gli esponenti locali hanno convocato una conferenza stampa per illustrare la decisione finale. Sono stati giorni frenetici, all'interno del gruppo Manfredo caratterizzato da continui contatti telefonici con Roma e con i nuovi alleati per tornare a riprendere il discorso interrotto nelle scorse settimane quando Vito Crimi preferì non assumersi la responsabilità di concedere il via all'alleanza col Partito Democratico e poi improvvisamente riaperto dopo la decisione di affidare al voto online. La scelta torna ai due principali temi che avrebbero dovuto caratterizzare l'Assemblea nazionale del Movimento saltata a causa del coronavirus. Varie le cause che hanno portato al voto online su Russo. La decisione di Virginia Raggi di ricandidarsi a Roma, l'apertura di Beppe Grillo e il rischio di perdere la rappresentanza e quindi vedere molto probabilmente sparire il Movimento nei comuni nei quali i progetti di alleanza erano già in stato molto avanzato come appunto Faenza e dove una corsa in solitaria della formazione a un mese di distanza dalle elezioni era impensabile. La lista del Movimento 5 Stelle a Faenza avrà come capolista il consigliere comunale uscente Massimo Bosi. Presente anche la collega Marilena Mangozzi mentre non figura il nome di Andrea Palli. Già in tempi non sospetti lo storico militante pentastellato aveva deciso di prendersi una pausa dalla vita politica in prima linea dopo il lungo percorso in questi 15 anni anche a causa dei nuovi impegni lavorativi lontano dalla città. Palli rimarrà comunque uno dei cardini del Movimento faentino. Per il resto la lista è formata da volti nuovi al pubblico e iscritti già da diverso tempo attivi per promuovere i temi cari al Movimento. In lista anche Vincenzo Barnabè dieci anni fa primo consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Faenza insieme a Maurizio Montanari.